Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose «Rabbuni, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Parola del Signore Un altro incontro lungo la strada. Siamo a Gerico, nella valle profonda del Giordano, nel deserto, l'oasi, la città delle palme. E in questa città Gesù passa varie volte e trova qui un cieco. Un cieco che lo invoca a gran voce «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» È simpatico questo cieco, a cui tutti dicono di stare zitto, di non disturbare, di non essere importuno verso il Maestro, ma lui grida ancora più forte «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» È il grido di chi si affida, di chi ha fiducia, di chi cerca sollievo, di chi cerca guarigione. Allora Gesù si ferma e sente quella voce che grida verso di lui. Gesù non passa mai accanto a chi soffre senza fermarsi, con indifferenza, facendo finta di non sentire. Gesù si ferma, lo chiama e lui ci va. Ed ecco l'incontro. Che cosa vuoi che faccia per te, dice Gesù? Che io riveda di nuovo. Ecco, è la storia di una guarigione, ma è la storia anche di una conversione. Perché Marco ci sta dicendo che tutti siamo ciechi, che tutti abbiamo bisogno di gridare verso Gesù con fiducia, che questa è la fede, affidarsi a lui. Infatti Gesù risponde, va, la tua fede ti ha salvato. Non solo ti ha guarito, ti ha riaperto gli occhi, ma ti ha salvato. E Marco commenta, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada, che è il tipico verbo del discepolo. Cioè non solo gli si sono aperti gli occhi del corpo, ma anche gli occhi del cuore, gli occhi della fede, quegli occhi che forse erano già aperti, mentre gridava, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ecco, ora sono diventati, questo grido, questi occhi, sono diventati sequela concreta. Seguire Gesù sulla sua strada. È un po' il cammino di ogni discepolo. Cieco che viene portato alla luce. Il cammino del battesimo, che ci ha donato occhi nuovi per vedere e seguire Gesù. Quante volte invece siamo ancora ciechi e non vediamo la nostra vera posizione, non vediamo i nostri peccati, non vediamo le orme di Gesù. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare come Lui, gridare con tutto il cuore. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È il Signore. Se lo facciamo con fede, ci aprirà gli occhi del cuore, perché possiamo seguirlo, sempre e di nuovo, con gioia.